Grazie. 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 Molto triste. e doloroso per ognuno di noi. Soprattutto per i familiari e parenti della nostra cara sorella Lina. Ma vogliamo però ricordare una cosa che gli stava a cuore alla nostra sorella Lina, che ci ha anche, che gli ha creduto fermamente su questa cosa che gli ha, così gli sta veramente a cuore, sino alla sua fine. Che cosa? La speranza meravigliosa che è ben descritta nella parola di Dio, la Bibbia. A questo riguardo vogliamo così ascoltare con attenzione il fratello Alessandro Albini, che così svilperà questo interessante discorso e si incentrerà proprio su questo, sulla meravigliosa speranza che abbiamo ognuno di noi e che Lina ci ha creduto fermamente sino alla fine. La vostra presenza in questa Sala del Regno, sulla piattaforma Zoom e anche sul canale dedicato a YouTube, è una dimostrazione di rispetto e apprezzamento per Lina e per i suoi familiari. Per tutti noi Lina è stata una cara amica, è stata una cara sorella che ci ha accompagnato nel nostro cammino cristiano. Per voi familiari è stata un modello di vita, una moglie esemplare, una madre speciale, una suocera amorevole, ma anche una nonna primorosa. Lina era nata il 27 settembre 1951, aveva perciò 71 anni. I suoi genitori, Nino e Nonna, come venivano chiamati dai loro parenti e amici, avevano già una figlia, Mariuccia, poi nacque Mimmo, che era fratello minore. Durante la sua vita, durante la vita di Lina, le verità bibliche fecero radice nel suo cuore. Nell'anno 1979, a Castellammare del Golfo, iniziò una considerazione sistematica della parola di Dio e la Bibbia. Continuò il suo percorso di studio biblico poi in un'altra località, a Messina, insieme a tutta la famiglia. Si erano uniti nello studio della Bibbia. Ed è interessante che in quel tempo lo studio a Lina e la sua famiglia lo stavano facendo una coppia di missionari, testimoni di Geova, fratelli, una coppia zelante che si impegnava a tempo pieno nell'opera di predicazione e possiamo dire hanno trasmesso a Lina il loro spirito come vedremo dopo. Nel 1982 decise di dedicare la sua vita a Geova con il battesimo. La conoscenza della volontà di Dio, espressa nella Bibbia, la spinse a servire Geova a Dio in tutta la sua vita, fino agli ultimi giorni. Ricordiamo con piacere che qualche ora prima che fu colpita da questa tragedia, da questa grave malattia, lei era impegnata ad insegnare ad altri, insieme a Maria, attraverso uno studio biblico. Torniamo indietro nel tempo. Nell'anno 1975 Lina ha sposato Luigi, unione che nel tempo portò alla nascita prima di Alfonso, poi di Maria, e con il tempo divenne particolarmente felice perché diventò nonna di Mattia e poi di Manuel. Questi due suoi nipoti sono nati, diciamo, dal matrimonio di Maria con Massimiliano. Lina ha profondamente amato, questo è un aspetto particolare, ha profondamente amato e rispettato sua suocera Maria come una mamma. Quando lei ne parlava era parte di lei, sua suocera, e quando andava a trovarla a Canicattì, pensate, era un'occasione per riunire tutta la famiglia di Luigi. Erano insieme e in quell'occasione, con i suoi fratelli, i fratelli di Luigi, le cognate di Luigi, i nipoti e i parenti, era sempre una grande festa, così almeno ci hanno raccontato qualche cosa di particolare. Torniamo ancora nella Sicilia. Messina era sempre pronta a sostenere i suoi familiari nei momenti di difficoltà. Lei era sempre disponibile, ha cresciuto i suoi nipoti come figli e nei momenti di aggregazione familiare allietava il palato col cibo che cucinava, in particolare con le sue specialità a base di pesce. E molti di noi conosciamo anche queste caratteristiche, è vero, la sua capacità, il suo essere una brava cuoca. Lo ricordiamo anche quando è stata costruita questa sala del regno, ad esempio. Lei ha operato come cuoca nel cantiere per poter permettere ai lavoratori di poter cibarsi. Quando arrivava qualcuno all'improvviso, e anche questo è un aspetto simpatico della sua vita, si poteva contare sul fatto che dal nulla l'Ina, con le sue capacità, con le sue conoscenze, era capace di cucinare un delizioso pasto per tante persone. Pensate, scherzosamente veniva chiamata al telefono dicendo che si prenotavano, sapete dove? Al ristorante Milo, perché lei era disponibile, era aperta per questo. È accaduto anche a noi, vero? Noi locali del posto, fratelli, sorelle, apprezziamo molto, apprezzavamo molto queste sue caratteristiche, ed era particolare. Tutti noi ricordiamo, ad esempio, il suo grande zello nell'opera di predicazione. Non trascurava mai nessuna opportunità di poter dare testimonianza ad altre persone, di poter portare la conoscenza della Bibbia agli altri. Con questo obiettivo iniziò l'opera di Pioniera Regolare, che l'ha vista impegnata per alcuni decenni, fino alla sua morte. Per chi non è un testimone di Geova, e non conosce questo termine, Pioniera Regolare, diciamo che la persona, sia esso uomo o donna, che è Pioniera Regolare, dedica ogni mese 70 ore a parlare ad altri della buona notizia del Regno. E Lina in questo era particolarmente impegnata, lo faceva con gioia, con zelo, rispecchiava proprio il desiderio di voler aiutare altri. Tanto era il suo amore per il nostro Dio Geova e per il prossimo, che nel voler sostenere Maria, sua figlia, seppur lo hanno riconosciuto con qualche difficoltà, si è sforzata ad imparare le basi della lingua dei segni, più comunemente conosciuta lì. Anche per questo oggi viene tradotta questo discorso nella lingua dei segni, proprio perché molti hanno apprezzato le sue caratteristiche, era ben conosciuta, ma aveva aiutato anche molti a venire alla verità. Fece questo appunto per essere di aiuto a Maria e ad altre persone. Che cara sorella che è stata Lina, vero? In questi anni, con la sua empatia, con il suo rispetto per gli altri, ha rafforzato le sue relazioni con chi la conosceva, con ognuno di noi. Infatti diciamo, chi di noi non ricorda la sua determinazione nel fare le cose? La sua ospitalità, la sua generosità, il suo atteggiamento che coinvolgeva chi le era vicino e che dire della sua lealtà e del desiderio di sostenere tutti i suoi familiari, ma anche noi conservi cristiani. Un'esperienza personale. Luigi la ricorda bene e ci ha dato molta gioia a questa. Quando noi ci siamo trasferiti come famiglia qui a Fiano Romano, ci riunivamo spesso nella sua casa per organizzare l'attività di predicazione nella zona. E Lina era una perfetta padrona di casa, era ospitale. Non uscivamo mai da quella comitiva per il servizio di campo, come la chiamiamo noi testimoni di Geova, se prima non ci aveva offerto un caffè, un pasticcino o qualcosa. Vero Luigi? Che bei ricordi questi. Ma è qualcosa che poi vedremo, potremo riaffrontare nel prossimo futuro insieme a me. Mi sono stati girati da Maria, in forma anonima, lo dico prima, alcuni messaggi ricevuti da chi conosceva sua madre. È nostro desiderio condividerne alcuni passaggi di questi messaggi con voi per capire come le persone la consideravano. La nostra caralina è stata un grande esempio di zello che non dimenticheremo mai. operosa nelle attività spirituali, sempre in prima linea, ospitale ed energica come un vulcano. E questa era Lina. Il secondo messaggio dice conserverò sempre il ricordo di tua mamma e spero di poter imitare la sua grinta, il suo entusiasmo in tutte le cose, ma soprattutto, dice, l'amore che aveva per Geova. Da un altro messaggio abbiamo preso questo spunto. Volevo solo dire che Lina per noi è stata un esempio di fede, di perseveranza e dedizione alla famiglia. Una donna forte, con il senso del gusto e della bellezza. È sempre stata attiva, dice il messaggio, nell'aiutare tutti, non trascurando se stessa e i suoi cari. Ed era così, Lina. Riconosciamo queste espressioni. Abbiamo altri due messaggi che vogliamo citare. E uno dice Lina era una donna straordinaria con un amore smisurato per Geova e per la sua famiglia. Una donna elegante, generosa, discreta, dolcissima e sempre disponibile. Un punto di riferimento. La mamma che tutti avremmo voluto. Una mamma davvero speciale. Una donna zelante e fedele. Non dimenticherò mai il suo sorriso. Quando veniva a prendermi alla stazione per venire da voi e lei si era alzata prestissimo per predicare con l'espositore, dice. Ci sono degli aspetti veramente interessanti che la riguardano. I messaggi che noi abbiamo appena letto, fratelli, sorelle, amici, parenti, dimostrano che Lina si era fatta un buon uomo verso tutti. In primo luogo verso il nostro creatore Geova Dio, proprio come è scritto nel libro di Ecclesiastes al capitolo 7, versetto 1. e dare importanza a questo versetto, proprio all'essere riconosciuti da Geova come suoi amici, avendo un buon nome, essendo apprezzati dal nostro creatore. Proprio per questi motivi è logico chiederci allora, e questa è forse la domanda che può turbare un pochino tutti noi, e in particolare i familiari, ma tutti noi che siamo suoi amici, come far fronte alla perdita di una donna come Lina? Ce lo siamo chiesto, vero? Perché sin dalla malattia lei ha lasciato un vuoto nei nostri rapporti. Avendo perso di recente i miei genitori, posso assicurarvi che ognuno di noi ha una reazione diversa alla perdita di una persona cara. Una cosa è certa. Provare dolore, piangere, avere crisi di pianto, provare un senso di vuoto è una cosa normale. Questi sentimenti sono quelli che provò Abramo alla perdita della sua cara moglie Sara, come viene descritto nella Bibbia, nel libro di Genesi. Lì leggiamo che Abramo pianse per la morte di sua moglie Sara. Un simile dolore lo provò anche Giacobbe quando credette che suo figlio Giuseppe fosse stato ucciso da una belva feroce. Avvenimento che vi invito a leggere con me, se avete la vostra copia della Bibbia, ad aprirla, sia essa elettronica o cartacea, in Genesi al capitolo 37, i versetti 34 e 35. Guardate come reagì Giacobbe a questa situazione, alla notizia della morte del figlio, perché così era stato trasmesso a lui. Allora si strappò le vesti, si coprì fianchi di sacco e pianse suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e le sue figlie cercarono di confortarlo. Notate, il versetto prima diceva pianse suo figlio per molti giorni. Qui aggiunge che i suoi familiari cercavano di confortarlo, di essergli d'aiuto. Ma notate la reazione di Giacobbe. Dice, ma lui rifiutava di farsi consolare, diceva scenderò nella tomba facendo lutto per mio figlio. E notate la parte finale del versetto. E continuò a piangerlo. Perciò, Luigi, Alfonso, Maria, voi che siete i parenti più stretti, non trattenete a volte le lacrime. Potrebbe essere dannoso, perché è anche una forma di sfogo, ma è una dimostrazione di grande amore. Versolina. Ma non sono finiti gli esempi biblici. Nella Bibbia ha insegnato che lo stesso Gesù, quando venne a sapere della morte del suo amico Lazzaro, mostrò di provare i nostri stessi sentimenti per la perdita della nostra caralina, ma mostrò di provare anche i sentimenti delle sorelle di Lazzaro, dei suoi amici che erano lì presenti. E ancora vi invito a prendere la vostra traduzione della Bibbia. Questa volta in Giovanni, al capitolo 1, notate i versetti 33 a 36. Li leggiamo nel completo, anche se avremmo potuto estrapolare solo qualche pensiero. Però è bello riflettere su questa espressione. I versetti dicono, Gesù, vedendola piangere, si riferisce alla sorella di Lazzaro, e vedendo piangere i giudei venuti con lei, si commosse profondamente e si turbò. Ma come Gesù, che aveva in potere di sanare le persone, ci si turbò, si commosse? È la stessa cosa, i stessi sentimenti che proviamo noi. E questo ci dà forza, ci fa comprendere che se in qualche momento, Luigi, avete ceduto, un pochino nella disperazione può essere normale, ma lì poi si deve reagire. Infatti, il versetto ancora va avanti. A quel punto Gesù chiede, dove l'avete posto? Chiese. Gli risposero, Signore, vieni a vedere. Avete notato cosa dice il versetto? Gesù cedette alle lacrime. Non fu criticato per questo, perché il versetto di seguito aggiunge un altro pensiero molto bello, molto interessante. I giudei dicevano guarda come gli voleva bene. Perciò il piangere, essere rattristati per la morte di una persona cara, diciamo, è parte della vita perché è una manifestazione dei nostri sentimenti. E quanti di noi abbiamo pianto per la perdita divina. Però vogliamo trarre un beneficio, una possibilità di vedere le cose da un punto di vista diverso, noi che abbiamo conoscenza della Bibbia, della parola di Dio. Perciò una riflessione che possiamo fare e che sicuramente potrà dare ulteriore forza ai suoi familiari. Perciò lo diciamo a te, Luigi, in particolare che hai perso tua moglie, la persona che veramente amavi più di tutti gli altri, ma anche a te, Alfonso, Maria, Massimiliano, ma anche a te, Mattia. Tua nonna è stata un grosso aiuto per te. Diciamo anche per tutti noi qui presenti, perché il vuoto si è creato per tutti. Allora, la riflessione che ci interessa e che può darci forza è questa. Essendo gli esseri umani alla morte di una persona cara, come reagisce il nostro Padre Celeste Geova? Come reagisce il nostro Dio alla morte degli esseri umani che lo servono? E possiamo dire che lui considera i suoi amici perché fanno parte della sua famiglia, della sua organizzazione visibile qui sulla terra. Ebbene, è la Bibbia, è Geova stesso che ci dà risposta. Così vi invito a prendere il Salmo 34 perché troveremo una chiara risposta a questa domanda. Come reagisce Geova? Come Geova legge queste situazioni? Nel versetto è detto Geova è vicino a quelli che hanno il cuore affranto, salva quelli dallo spirito abbattuto. Geova è vicino. Geova sa che queste situazioni ci abbattono, ci schiacciano letteralmente, ci distruggono emotivamente. Per questo, come abbiamo letto nel versetto, Geova si avvicina a noi, non ci lascia soli. Quando ci sentiamo in queste condizioni, noi sappiamo abbiamo bisogno di aiuto, forse ci rivolgiamo a qualche amico, ma Geova non ci abbandona mai. È meraviglioso leggere che viene il nostro soccorso, per così dire, come abbiamo letto nella seconda parte del versetto, ci salva, aiutandoci a non essere oppressi dal dolore, e tantomeno per la perdita di una persona chiara, come potrebbe essere il caso della nostra caravina. Vogliamo leggere un altro pensiero scritturale? Useremo molto la Bibbia perché vogliamo vedere cosa Dio ci insegna a riguardo, perché fondamentalmente Lina aveva basato la sua vita sulla parola di Dio e faceva riferimento sempre alla parola di Dio per ogni scelta che faceva. Era accompagnata dai sani principi, dai giusti principi. Allora, leggiamo un altro versetto, il Salmo 147,3, nel quale, notate, manifestando lo stesso spirito soccorrevole, il nostro caro Padre Celeste ci rassicura con queste parole. Dice, sana quelli dal cuore affranto e fascia le loro ferite. Notate parole semplici, ma siete d'accordo? Sono piene di significato, non trascurano nulla dell'amore di Geova verso le persone. Qui il versetto dice che Geova fascia le nostre ferite. Questo significa che si prende del tempo per aiutarci a guarire e a curare il nostro malessere a livello emotivo. Alcuni potrebbero dire, ma come Geova può fare questo? Lo fa attraverso i nostri conservi cristiani, i nostri fratelli e sorelle amorevoli, spirituali, che ci sono vicini, non ci abbandonano in questi momenti tristi. Lo fa attraverso la lettura e la meditazione che noi facciamo della parola di Dio, la Bibbia. Perché questa è una cosa che non vogliamo trascurare nemmeno nei momenti più tristi della nostra vita. E diciamo questo perché molte volte, parlando con Luigi, in quanto abbiamo avuto come famiglia veramente uno stretto legame in questi anni, mi riferiva a Chellina, ma anche Chellina me lo diceva, amava studiare la Bibbia, era una studiosa della parola di Dio, amava leggerla, amava meditare sulle informazioni in essa contenuta. L'altra sera, parlando con Maria e con Alfonso, ad esempio, ho scoperto un particolare che non conoscevo, che Lina, la mattina, prima di iniziare l'attività a favore della famiglia, aveva l'abitudine di prepararsi un caffè che lei amava particolarmente e poi goderselo sul portico, dinanzi a casa, è così Maria. Ce la rivediamo, Lina, in queste attività. Ecco, lei apprezzava proprio Geova e l'aiuto che lui le dava. L'essere studiosi della Bibbia per lei era qualcosa di veramente importante. Lei viveva una vita felice, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, aveva sempre una parola di incoraggiamento. Era sempre pronta a far vedere il lato bello della vita. Questo era Lina. E lei, nello studio della parola di Dio, le aveva permesso di acquistare fiducia nella speranza che Dio dà a tutti noi, di una vita felice nel prossimo futuro, in una terra paradisiaca. Questo rispecchiava, questo in cui lei credeva, rispecchiava quelle che erano le sue caratteristiche. Pensate, in quel paradiso futuro, che era poi l'origine, il proposito originale di Dio, le persone saranno risuscitate per vivere per sempre. Lina aveva questa certezza perché aveva imparato a conoscere il nostro creatore Geova e Dio attraverso lo studio come un Dio saggio, come un Dio giusto, come un Dio amorevole, come un Dio potente. Lina aveva questa certezza perché attraverso lo studio aveva appreso che la morte non faceva parte del proposito originale di Geova per l'umanità, piuttosto aveva imparato, come molti di noi, che la morte è una conseguenza della disubbidenza che Adamo e Eva nel giardino di Eden e che furono puniti loro con la morte. Un versetto che a tutti noi i testimoni di Geova ha permesso di fare luce sul perché gli uomini muoiono è quello di Romani 5 e 12. Se potete prenderlo dalla vostra Bibbia, lo leggiamo insieme. Notate, qui dice Romani 5 e 12 Ecco perché, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è stesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Notate anche qui con che semplicità di parole viene descritto quello che è il più grande dramma per l'umanità, come la morte è entrata a far parte della vita delle persone. La Bibbia ci insegna che la morte è la conseguenza della disubbidenza a Geova del nostro primo genitore, Adamo, che ha causato a tutti noi i suoi discendenti le conseguenze che conosciamo, ha causato malattie, vecchiaia, causa la morte che è il più grande problema o nemico dell'umanità. Ancora qui facciamo una riflessione. Come faceva Lina ad avere la certezza che le promesse di Geova, compresa quella della risurrezione, si sarebbero avverate? Perché aveva fede che Dio, nel suo grande amore, ha provveduto a tutti gli esseri umani ubbidienti il sacrificio del suo amato figlio Cristo Gesù, che gli ha permesso di riscattare dal peccato, di ricomprare dal peccato tutta l'umanità per dare nuovamente la speranza della vita eterna. Nella mente di Lina era chiara anche la condizione dei morti. Lei conosceva il versetto di Ecclesiaste 9.5. Possiamo prendere appunti e poi magari leggerli con calma, questi versetti, perché sono una base di riflessione veramente. Dicevamo, lei conosceva Ecclesiaste 9.5, dove viene detto che i vivi sono consapevoli che moriranno. Ma nell'altra parte del versetto dice «Ma i morti non sono consapevoli di nulla». Sapete, questa verità biblica è importantissima proprio in questi giorni, proprio oggi. È importante per Luigi, particolarmente per Alfonso, per Maria, perché ci danno conforto. Confortano la persona che ha perso la persona gara. ci danno certezza, e in questo caso a Luigi ti sta dando certezza a Geova che Lina non sta soffrendo. Lina è come se fosse addormentata in un profondo sonno. E questo non che ci rallegra, però ci toglie il peso di aver perso Lina pensando che magari si venisse a trovare in qualche situazione triste. No, sta addormendo, si sta riposando. In queste condizioni possiamo affermare che il tempo passa subito e che quando sarà risuscitata troverà a te Luigi, troverà a te Alfonso, Maria, i suoi nipoti, Massimiliano, tutti noi, a patto che continuiamo ad essere fedeli e che vediamo la possibilità di poter servire Geova in eterno, ma soprattutto di poter riabbracciare i nostri cari morti in maniera reale. C'è un versetto nella Bibbia che ci dà questo tipo di incoraggiamento ed è portato in Giobbe 14, il versetto 15. È un pensiero particolare. Lì viene detto quando tu chiamerai e io ti risponderò. È questa la riflessione che vogliamo fare. Quando Geova chiamerà Lina e la risusciterà e lei sarà nel nuovo mondo perché lei ormai la sua battaglia, la sua guerra l'ha vinta. Troverà anche a noi, troverà anche a voi come familiari. Siamo certi, vero? Ora notate come questo è un incentivo a poter continuare ad impegnarci a servire Geova. Per me è stato un incentivo quando ho perso i miei genitori e prima ancora mio fratello. E vi posso dire che è qualche cosa, una speranza meravigliosa. Poter riabbracciare Lina, poter tornare con lei a fare attività. Le attività che facevamo prima, anche solo prendere un caffè, come dicevamo prima, che lei lo apprezzava molto. Non è vero Luigi? E qualche cosa veramente di meraviglioso questa speranza che Giove a Dio ci sta dando. E diciamo ancora quante cose in quel momento Luigi tu avrai da raccontare a Lina. Noi ti immaginiamo con tua moglie seduti nel portico, come dicevamo prima, a consumare un pasto, forse anche quelle sere quasi d'inverno, ad un'aria dove faceva freddo, come facevate fino a pochi mesi fa, però eravate lì e parlavate. Noi vediamo Lina e vediamo te Luigi con questa immagine, voi familiari, diciamo, poter riabbracciare Lina in queste condizioni. Ma torniamo sull'argomento, abbiamo aperto una piccola parentesi. Abbiamo fatto riferimento al fatto che Lina aveva la certezza, Lina era convinta che Dio, oltre ad eliminare le malvagità e le sofferenze, avrebbe ristabilito un paradiso sulla terra riportando in vita le persone morte. Ebbene, questa sua fiducia era basata su molti passi scritturali. In particolare, Lina citava le parole che pronunciò Gesù e che sono riportate in Giovanni 5, 28, 29. Se volete prenderle, le leggiamo insieme. Ma ho visto che sono state messe anche vicino alla fotografia di Lina che è stata esposta in varie situazioni. È una frase, se ci pensiamo bene, che a volte troviamo anche sulle lapidi quando noi giriamo per i cimiteri. Qual è questa frase? Leggiamolo. Dice non meravigliatevi di questo perché verrà il tempo in cui tutti quelli che sono nelle tombe commemorative udranno la sua voce e ne usciranno. E ne usciranno. Significa che saranno risuscitate. Non è questa una meravigliosa speranza? Lina credeva in questo. Ora, in base a quello che abbiamo letto, presto Gesù risusciterà miliardi di persone che potranno vivere felici per sempre come abbiamo detto in quella terra resa paradisiaca nel prossimo futuro. Gesù disse fra le altre cose che tutti quelli che sono nelle tombe commemorative possiamo rileggerlo lì nel versetto anche quelli che apparentemente sono stati dimenticati dagli uomini ma non dimentichiamo sono nella memoria di Geova saranno risuscitati. alcuni potrebbero dire e quelli che il cui corpo è stato distrutto se sono nella mente di Geova Geova opera la risurrezione anche per quelle persone non abbiamo dubbi e Lina aveva questa certezza. Un altro passo scritturale che rafforza la speranza della risurrezione è quello di Rivelazione 21 4 e 5 consultiamo insieme questi versetti anche vi invito a prenderli. Un versetto che Lina usava anche nell'opera di predicazione per aiutare le persone proprio a credere in Geova e in questa speranza. Qui ha detto ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più né ci sarà più lutto né lamento né dolore le cose di prima sono passate e colui che sedeva sul trono disse ecco faccio ogni cosa nuova. Se osserviamo attentamente questi versetti il versetto 4 conclude con queste parole le cose di prima sono passate quali? Lo dice prima il versetto tra le altre cose dice la morte non ci sarà più non ci sarà più il lutto perciò il dispiacere che crea la morte non ci sarà più lamento non ci sarà più dolore anche nel senso che sarà una vita diversa anche le malattie che portano alla morte saranno eliminate il versetto 5 però notate pone un suggello sulla certezza che quanto scritto si avvererà infatti dice scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci avendo Geova ispirato la stesura della Bibbia voi che siete parenti divina che siete amici noi che siamo suoi fratelli noi testimonieri di Geova diciamo non abbiamo dubbi che quanto promesso si avvererà e Lina non aveva dubbi che questo si sarebbe avverato a suo tempo c'è un altro passo scritturale lo leggo io però ascoltate le parole quello di riportato in Isaia 55 versetti da 10 a 11 è interessante riflettere su quello che qui dice Geova a conferma anche dell'espressione che era riportata nel versetto 5 questi versetti dicono proprio come pioggia e neve cadono dal cielo e non vi tornano prima di aver bagnato la terra fecondandola e facendola produrre in modo che il seminatore abbia seme e chi mangia abbia pane così sarà la parola che esce dalla mia bocca non tornerà da me senza risultati ma certamente realizzerà ciò che desidero e di sicuro raggiungerà lo scopo per cui l'ho mandata è bello è profondo questo versetto perché se ci pensiamo bene qui viene un pochino indicato quello che è il ciclo della pioggia cade poi ritorna in cielo cade ma nel frattempo produce frutto permette alle piante di crescere però vorrei invitarvi a guardarlo da un punto di vista soprattutto a te Luigi e Alfonso Maria ascoltavo un discorso funebre e il fratello diceva ogni volta che vedremo piovere noi potremo ricordare la promessa di Geova sulla risurrezione in quel momento Luigi tu potrai ricordare che l'Ina sarà risuscitata e che potrete tornare insieme è vero ci pensiamo tutti i giorni non abbiamo bisogno che piova però quando vediamo questo avremo anche la conferma il versetto poi conclude dicendo che lui ha proposto questo ha promesso questo all'umanità e lo farà senza dubbio proprio come il ciclo dell'acqua la nostra presenza oggi in questa sala del regno oppure come abbiamo visto sulla piattaforma zoom e sono molti collegati ma anche sul canale youtube oltre a dimostrare affetto per le famiglie Milo e Mondello ha sicuramente prodotto dei benefici a livello personale in ognuno di noi abbiamo avuto modo di guardare la morte in una maniera diversa più serena comprendendo che Geova ci dà la speranza della risurrezione quando muore una persona o come in questa occasione assistiamo a un funerale siete d'accordo nell'affermare che ci rendiamo conto quanto la vita sia fugace quanto la vita sia imprevedibile può cambiare in un momento un incidente una malattia una malattia grave dove in quel momento la persona perde anche la vita allora vogliamo leggere un altro passo scritturale quello che è riportato in ecclesiaste al capitolo 9 versetto 11 leggiamolo insieme e riflettiamo su questo significato sul significato di queste parole di cui dice un'altra cosa ho visto sotto il sole non sempre i veloci vincono la corsa o i forti vincono la battaglia non sempre i saggi hanno cibo gli intelligenti hanno ricchezze e non sempre quelli che hanno conoscenza hanno successo perché il tempo e l'avvenimento imprevisto capitano a tutti possiamo essere forti dice il versetto possiamo essere veloci possiamo essere saggi possiamo essere intelligenti come lo era l'ina perché abbiamo visto anche nella descrizione che è stata fatta aveva delle qualità particolari un'intelligenza unica purtroppo però dice il versetto se lo rileggiamo non possiamo sfuggire all'avvenimento imprevisto al tempo imprevisto in questo caso vogliamo fare un'applicazione di questo avvenimento imprevisto in qualche caso potrebbe essere un incidente una malattia qualunque cosa ma siete d'accordo se diciamo che l'avvenimento imprevisto nel corso della storia umana è il peccato è la morte sì perché Giova Dio originalmente non aveva previsto la morte per il genere umano l'avvenimento imprevisto è stato il peccato di Adamo e di conseguenza oggi noi ne paghiamo le conseguenze allora quando parliamo della morte comprendiamo che Giova non voleva che questo avvenisse e che può toccare in ogni momento ognuno di noi perciò conferma che la vita può essere veramente un momento che passa velocemente la morte è una realtà che ci porta a riflettere su come stiamo usando la nostra vita dato che la vita è breve dovremmo per così dire contare uno due tre i nostri giorni i nostri giorni di vita proprio come è riportato nel Salmo Salmo 90 12 dice insegnaci a contare i nostri giorni così che possiamo ottenere un cuore saggio alcuni potrebbero dire scusami cosa significa contare i giorni come possiamo farlo lo sapete che Lina l'aveva imparato a fare possiamo farlo ad esempio come aveva fatto Lina come ha fatto Luigi come ha fatto Alfonso Maria Massimiliano e Mattia sta imparandolo inducendo il nostro cuore alla saggezza o essendo saggi affinché i giorni che ci restano non vadano sprecati ma siano realmente vissuti alla lode del nostro creatore Giovedio e così in quel momento potremmo contare uno due arrivare a ottant'anni ma sono giorni se noi guardiamo indietro di quello che abbiamo fatto che ci danno gioia felicità speranza perché ci siamo comportati come il nostro creatore vuole e come nel caso della sorella Lina possiamo farci un buon nome presso Geova con il nostro modo di vivere in armonia a quelli che sono i principi che Geova Dio ha indicato nella parola scritta la Bibbia ricordate i messaggi di apprezzamento verso Lina che sono stati scritti a Maria e che abbiamo ascoltato nell'introduzione sono dei bei pensieri in aggiunta ai messaggi letti mi è stato chiesto di leggere una lettera di ringraziamento rivolta a Lina voglio essere sincero ho chiesto a un fratello di farlo a posto mio perché io pensavo di non riuscire a leggerla così chiediamo ascoltiamo la lettura di questa lettera quando ti ho conosciuta all'inizio sei stata per me solo una sorella spirituale poi la migliore amica della mia migliore amica e qualche anno dopo la mia complice nel conquistare il cuore della tua principessa a quel punto sei diventata come una seconda mamma per gli scorsi ventidue anni della mia vita a fianco della tua principessa che è diventata la mia regina suocera e genero scherzavamo insieme ci punzecchiavamo con il nostro carattere aperto gioviale a volte impulsivo ma intraprendente in quello che si doveva fare per la famiglia forse poche volte ti sei sentita dire da me ti voglio bene ma spero di avertelo dimostrato grazie Lina per quello che mi hai dato il tuo zelante esempio di cristiana il tuo infinito amore per Luigi per Alfonso e per Mariolina per me e per gli ultimi arrivati in famiglia i tuoi nipoti Mattia e Manuel nonna premurosa tanto il tempo passa subito così vi siete sempre detti tu e Mattia ogni giorno che andava a scuola nei suoi primi anni di questa nuova esperienza per lui e tu eri lì ogni giorno presente fuori nel tuo amato giardino anche con il gelo per salutarlo e donargli il tuo sorriso di nonna incoraggiando e aiutando Mattia a superare le sue prime sfide nonna gioiosa e giocherellona la migliore cuoca del mondo ti aspettiamo il meglio dovrà arrivare e ci saremo anche noi sì tutti noi in quel nuovo mondo che presto verrà e tu sarai dietro l'angolo per gioire nuovamente tutti insieme nella vera vita tuo fratello e genero Massimiliano e noi vogliamo esserci voi volete esserci vero? Massimiliano l'ha dichiarato vorremmo abbracciare Lina in quel giorno qualcosa di meraviglioso sarà ma facciamo una riflessione proprio alla base dei messaggi che abbiamo letto prima di Lina e di questa lettera i nostri fratelli e sorelle spirituali i nostri parenti i nostri amici gli altri scriverebbero di noi queste cose? è una bella domanda vero? abbiamo fatto questa domanda perché se le scrivessero significherebbe che avendo vissuto la nostra vita ognuno di noi in armonia alla volontà di Dio come ha fatto Lina ci siamo fatti un buon nome un buon nome in primo luogo verso il nostro creatore Geova non dimentichiamo mai che essendo pronti a fare il bene e comportandoci come Dio desidera contribuiamo a santificare e a rivendicare il nome del nostro creatore Geova Dio in risposta proprio alla ribellione e all'errore che fece Roda Medeva la speranza della risurrezione è un motivo in più per conoscere e fare la volontà di Dio così facendo potremmo avere la certezza di rivedere presto i nostri cari risuscitati e potremmo riabbracciare tutti insieme la nostra Chiara Lina tutto questo non toglie i fratelli che oggi Luigi e i suoi famigliani hanno perso la persona a cui volevano più bene hanno perso Lina dovremmo usare allora questa occasione e lo state facendo la vostra presenza come dicevamo è un incoraggiamento è un conforto per queste due famiglie che oggi stanno veramente soffrendo perciò vogliamo aiutare vogliamo sostenerli non solo oggi nei giorni futuri vogliamo rafforzare in loro la speranza della risurrezione perché il fatto di poter vedere credere ed essere certi che Lina si ricongiungerà speriamo nel più breve tempo possibile nel nuovo mondo nel paradiso a Luigi è qualche cosa di meraviglioso dimostrandoci veri amici e veri compagni di fede vogliamo continuare dimostrare a queste due care famiglie il nostro affetto fraterno e saper dare il nostro sostegno emotivo che meritano e diciamolo di cui hanno bisogno in questi giorni e nei giorni futuri tramite la preghiera ci rivolgiamo a Geova sicuri che ci darà la forza di cui abbiamo bisogno fino a quando non eliminerà completamente le sofferenze a riguardo concludiamo leggiamo non concludiamo leggiamo un ultimo versetto quello del Salmo 9 9 10 qui dice Geova Dio diverrà un rifugio sicuro per gli oppressi un rifugio sicuro nei momenti difficili quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te o Geova non abbandonerai mai quelli che ti ricercano che parole meravigliose avere vicino e voi lo state avendo Geova che è un rifugio per voi un rifugio sicuro ma per tutti noi è qualche cosa di meraviglioso possiamo dire andando verso la conclusione o meglio vogliamo citare nuovamente quella frase che è tanto carà Mattia tanto il tempo passa subito ascoltiamo una lettera riguardo un pensiero almeno un saluto che Mattia ha voluto dedicare alla nonna cara nonna Lina ti scrivo nel giorno del tuo funerale e so che leggerai questa lettera quando tornerai in vita nel nuovo mondo sai nonna mi manchi tanto vorrei fare tante cose con te ma una di queste è andare nell'altalena e farmi cantare la canzone dell'altalena la cosa che mi manca è che mi salutavi prima di andare a scuola sai nonna Manuel è cresciuto io faccio sport tennis e la famiglia sta bene a tutta la famiglia tu manchi di te mi piace il tuo carattere nonna apprestissimo perché il nuovo mondo è dietro l'angolo un abbraccio Mattia PS nonna ricordati il tempo passa subito e noi siamo sicuri che presto Mattia potrai riabbracciare tua nonna ti ringraziamo fratello Alessandro per questo discorso incoraggiante la famiglia Milo e la famiglia Mondello ringrazia sentitamente tutti i presenti in questa sala e anche tutti coloro che sono collegati per le vostre belle espressioni di conforto e di incoraggiamento vi annunciamo inoltre che dopo il cantico e la preghiera finale verrà fatto vedere un breve video dove ci sono alcune foto della nostra sorella Lina quindi siete pregati anche di stare per qualche minuto seduti per vedere queste foto il feretro dopodiché verrà accompagnato al cimitero di prima porta ora possiamo chi desidera alzarsi in piedi possiamo cantare il cantico numero 151 dal tema Chiamerà è sotto forma di coro e poi il fratello esposito Luigi concluderà con una preghiera la vita è come un vapore che appare poi scompare felicità poi cruda la realtà le lacrime il dolore morte dopo te che speranza c'è la risposta Dio la dà chiamerà chiamerà i morti udranno i morti udranno bramerà l'opera sua così dal loro sonno Geovadio Geovadio li desterà riabbracciare i nostri cari e non perderli mai più Dio è meravigliosa la speranza che dai tu chi servì chi servì Dio ma ora non c'è più è nella sua memoria si sveglierà se si addormenterà il giusto che Dio ama e d'allora in poi piangeremo noi solo di felicità la risposta di olada chiamerà i morti udranno e bramerà l'opera sua e così dal loro sonno che speranza giova di risposta di olada riabbracciare i nostri cari che speranza giova di risposta di mai più più Dio è meravigliosa che speranza giova la speranza che dai tu caro padre geova sei nell'alto dei cieli questa sera siamo la tua casa per fare cordoglio e lutto perché è venuta a mancare la nostra cara sorella lina quella stessa casa in cui tante volte l'abbiamo sentita ridere abbiamo sentito le sue parole di gioia di allegrizza abbiamo sentito le sue esperienze l'abbiamo sentita commentare raccontarsi e darsi completamente a tutti noi giova a dio però è anche un'occasione per dirti grazie perché oggi qui non siamo venuti a dire all'ina un ultimo saluto ma gli stiamo dicendo ciao arrivederci e che sappiamo oggi e presto tu richiamerai lina e noi finalmente potremo tutti insieme riabbracciarla finalmente lina potrà ristare col suo caro luigi ora lina in un posto sicuro è nella tua memoria e tu non dimentichi non dimentichi le sue belle caratteristiche non dimentichi tutto quello che le ha fatto per te per il tuo popolo per predicare la buona notizia così come forse tante volte luigi nella sua vita dolcemente l'avrà svegliata per dire cominciamo insieme la nostra giornata tu geova chiamerai lina delicatamente per portarla in vita per sempre per portarla tra di noi e così non ci potremo non ci lasceremo mai giova dio tu sia un dio potente e quindi col tuo potente spirito ti chiediamo di aiutare luigi alfonso maria massimiliano mattia il piccolo manuel a perseverare nonostante la mancanza di lina ricordagli ogni giorno la speranza che presto tu la riporterai in vita e aiutali a meditare sul conforto che solo tu puoi dare a ricordagli come sarà bello quando con lina si uniranno e potranno così insieme ricominciare a vivere la vera vita lina vogliamo immarginarci nel nuovo mondo mentre ricostruiamo le nostre case ricostruiamo un mondo finalmente trasformato in un paradiso chiamarci e dirci ecco c'è il caffè caldo che ci consola e per voi l'ho preparato per voi con amore come lei sapeva fare bene e così ci sentiremo consolati e ricorderemo ogni giorno della nostra vita che sei un padre meraviglioso e non ci abbandona mai Geova quindi assisti ognuno di noi aiutaci a stare vicino a queste care famiglie a fare la nostra parte e a contribuire alla loro perseveranza Geova tu ci hai creato e quindi sai come siamo fatti tu a differenza di qualsiasi essere umano puoi vedere il nostro cuore il cuore dei cari di lina rotto, ferito però puoi fare molto per lenire la nostra sofferenza e quindi ti preghiamo di aiutarci a starti vicino Geova tu sai che siamo peccatori per questo ti chiediamo il perdono e se tua volontà di accettare questa preghiera nel nome del tuo amato figlio Cristo Gesù Allora 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 Se chiudo gli occhi vedo già un mondo in pace e serenità anche tu come me lo vedrai non è un sogno e tu lo sai ciò che ha promesso Geova per noi si avvererà anche tu lo vedrai Senti che meravigliosa armonia c'è questo è ciò che voleva Dio per me e te chi dormiva nella morte già insieme a noi e non ci lascerà anche tu come me lo vedrai e non ciò che vorrei Angosce e lacrime sono ormai, passate le a sconfitte, Dio per noi, anche tu, come me, lo vedrai. Senti che meravigliosa armonia c'è, questo è ciò che voleva Dio per me e te. La sua parola è una garanzia, la mia è fede e non fantasia, quello che Dio farà per tutti noi sarà per l'eternità ora. Chiudi gli occhi e vedi che c'è un mondo nuovo intorno a te, anche tu, come me, lo vedrai. Mentre il sole splende ancora in un puro cielo blu, Stai parlando con gli amici nel giardino che hai curato tu e tutto questo era dietro l'angolo e tu sei nel nuovo mondo già, il mondo che aspettavi. C'è una casa nella valle dove il fiume scorre e va, Ce n'è un'altra su in collina, c'è la terra che germoglia già, i campi sconfinati sono d'oro più che mai. Era dietro l'angolo il mondo che aspettavo. I passi miei vicino ai tuoi, un mondo nuovo qui per noi, le lacrime non sono che ricordi del passato ormai. Che profumi, che paesaggi, c'è chi amo intorno a me, sta iniziando un nuovo giorno, è perfetto e bello star con te. Geova quanti doni buoni, quanto amore hai per noi, era dietro l'angolo, il mondo che aspettavo. Ripenso a te, a quando io sognavo di riaverti qui, e adesso che sei qui con me, ti abbraccio e rido insieme a te. Geova l'ha promesso, e io so che arriverà, dietro l'angolo già vedo, quel bel nuovo mondo che verrà. E se soffro mentre aspetto, penso a quello che sarà, proprio dietro l'angolo. C'è il mondo che oggi aspetto. Grazie. 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 Ciao. Ciao. Ciao a tutti, ciao Fratello Passarello. ciao ciao Svaldo ciao Maria ciao Svaldo ciao Lorenzo ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao Giovanna ciao 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 a tutti ciao 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 a tutti ciao Don Maria io non vi vedo io non vi vedo sono Maria Luisa vi saluto tutti ciao ciao Svaldo ciao Svaldo ciao Svaldo ciao Svaldo ciao Lucia Granata ciao ciao Giovanna signora Milo la saluto ciao ciao mamma di Luigi la volevo salutare buonasera buonasera anche a Tanina e a Dino buonasera un bacio da parte di un bacio da parte di Alvaro ciao 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 a tutti ciao Danina sono Raffaella con le danze ma ciao 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 Maria Lorenzo ciao 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 mamma mia che dolore ciao 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 diorenzo ciao 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 mamma mamma devi prendere il microfono ma tocca il microfono scusate Gianni Giussi ciao 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 Luisa ciao non riuscivo ad uscire ed è stato bello perché almeno vi ho visti vi voglio bene a tutti ciao Renzo grazie ciao 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 io ne ho visto uno via l'altro via ciao a tutti usciamo ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 Tommaso carissimo ciao Zezza ciao ciao Zezza ciao 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 Maria, ciao 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 io non riesco a ricordarmi tutti vedo Gianni, Zezza Gli altri non me li ricordano Zezza, ciao ti ho mandato un bacio Zezza, ho sentito che ho sentito proprio Tommaso e Zezza, ciao e tanti altri fratelli anche la famiglia Milo, voglio salutare tantissimo grazie, grazie a Dino ciao, Zezza ciao ciao Maria ciao buona serata grazie a Sanina, diglielo ciao Maria Sanina, ciao 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 anche Pina ciao Pina ciao Gioia anche la signora Milo la saluto signora Sara ciao Pina ciao ciao mi dispiace che ci siamo visti in queste brutte circostanze intanto vi auguro buona serata buona serata buona serata ciao a tutti ciao Riccio, ciao Gioia ciao ciao fratelli sono le due di notte due di notte di notte di notte di notte alcuni fratelli non riesco a riconoscerli ci siamo ci siamo invecchiati non riesco a capire cittina cittina ciao 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 Maria Ferri non tramonta mai riconosciamo solo voi che sa perché ciao Maria 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 ciao 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 buon tempo buon tempo buon tempo buon tempo ciao è Lucia vero è Lucia sì ah Lucia ciao ciao Lucia ciao sono felice di vederti anche se in brutte circostanze è vero è vero meno male che c'è questa buona serata buona serata anche a voi tutti ciao ciao Tommaso ti fa piacere vederli te e tua moglie ciao Tommaso Tommaso come stai? come stai? e insomma ci potete essere meglio l'Australia è troppo lontana come? l'Australia è troppo lontana Tommaso non so l'Australia è troppo lontana perché Milo Milo ci ha fatti rivedere ci ha fatti rivedere ci ha fatti rivedere per più di ci ha riveduto lì da si chiama ricordate ma basta lì da si chiama Zezza e no io non me lo ricordo mamma mia Maria Maria forza Maria Milo si Zezza no ti fa fare Maria Maria queste queste circostanze hanno due facce quella triste e anche piacevole di rivedere grazie allo Zoom di rivedere tanti i nostri cari se pensate che non c'era questa possibilità chi poteva assistere a un funerale così lontani adesso noi in Australia possiamo vedere possiamo partecipare a qualsiasi avvenimento anche se siamo così lontani dunque approfittiamo di questa circostanza per rinnovare il nostro amore e l'affetto che abbiamo per i fratelli che conosciamo da tanti anni abbiamo passato tanti bei momenti anche tristi ma ricordiamo quelli belli quelli che ci hanno rallegrato e quanto servizio che lo fanno e li portiamo fino al nuovo mondo quelli belli abbiamo questa bella speranza di rivedere i nostri cari di rivedere tua mamma li diventiamo mamma mio papà chi lo sa tante cose ci aspettano tante cose belle sì non abbiamo idea delle cose che ci aspettano nel futuro il prossimo zoom lo faremo nel nuovo mondo allora forse il nuovo angolo ciao maria valenti ciao 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 anche dopo tanti anni ti abbiamo conosciuto maria ciao 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 ebbè eravamo giovani ci siamo anche invecchiati l'importante l'importante che comunque ancora abbiamo il privilegio di rivederci eh speriamo vi auguro a tutti buona serata grazie di rivederci saluta a Betto ciao 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 ci ha fatto piacere vederti Tommaso ciao 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 un bacio a tutti ciao 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 Giovanna e Rocco ci siamo conosciuti a casa di mia suocera diverse volte ci siamo grazie a tutti ciao 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 ciao